A far partire le indagini una segnalazione che sarebbe stata firmata da Roberto Toniolo, direttore generale di Azienda Zero. Difformazione alla sanità veneta sarebbe questo il reato contestato dalla procura di Padova ad Andrea Crisanti, il direttore della microbiologia dell'università della città titolare di uno studio pubblicato a fine marzo sull'utilizzo dei test rapidi. Proprio sui test rapidi il PM padovano Roberto Benedetti sta indagando con l'ipotesi di frode in pubbliche forniture per verificare se la regione sia stata truffata dalle aziende farmaceutiche che avrebbero venduto test poco efficaci. Secondo Azienda Zero, braccio operativo della regione, le critiche dello scienziato al sistema di prevenzione della diffusione della pandemia e in particolare all'uso dei test rapidi avrebbero gettato discredito sulla sanità veneta. E sul caso dei tamponi rapidi è tornato il presidente del Veneto Luca Zaia. Noi abbiamo semplicemente aderito alle indicazioni dei tecnici, che deve essere chiaro, rispetto a una diagnostica per lo screening che è utilizzata da tutte le regioni a livello nazionale e a livello mondiale. Se qualcuno dimostrerà, come si dice, nero su bianco, che questa diagnostica ha delle dichiarazioni di performance diverse da quelle reali, a questo punto c'è un problema rispetto al produttore, immagino. Il presidente Zaia e l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin riferiranno a martedì prossimo in Commissione regionale con i tecnici.